La guerra in Exegoslavia, cominciò nel giugno del 1991 e terminò alla fine dell'anno 1995. Uno dei conflitti più crudeli della storia, con uno dei record più alti di vittime civili. In Bosnia non morivano soltanto i soldati sul campo di battaglia, anche le donne, i bambini, i vecchi, sgozzati all'interno delle loro stesse case da eserciti composti da criminali assassini reclutati dai bracci di massima sicurezza delle carceri. Tre popoli, tre etnie differenti. I croati cattolici, i bosniaci musulmani, i serbi ortodossi, gli uni contro gli altri. In una guerra piena di menzogne e tipologie. Cattolici, i nostri sposti da cattolici, i nostri sposti, i nostri sposti, gli uni pocchi, i nostri sposti, gli ossciori, i nostri sposti.